3, 2, 1, via! Siamo qui oggi davanti all'inceneritore SILA2 per manifestare contro la gestione dei rifiuti in Lombardia mediante l'incenerimento dei rifiuti. Noi abbiamo in Lombardia 13 inceneritori che bruciano circa 2 milioni e 500 mila tonnellate di rifiuti all'anno. Quindi circa la metà di tutta Italia, consideriamo che abbiamo quasi l'incenerimento dei rifiuti di tutta Italia. Perché? Perché la gestione dei rifiuti in Lombardia è stata progettata in questo modo, cioè facendo inceneritore rifiuti. Qui in particolare a SILA è il secondo inceneritore più grande in Lombardia ed è il primo per quantità di rifiuti urbani inceneriti. E' per questo motivo che siamo qui, per dire bus stop a questo modo di gestire i rifiuti, puntando più sul riuso, sul riciclo, per arrivare a una gestione dei rifiuti tramite l'economia circolare. Siamo qui con Enrico Bellacci del Comitato Intercomunale SILA2, che ci illustra la problematica di SILA in particolare. Io, come ha detto Davide, faccio parte del Comitato SILA2, sono di Ro e insieme al Movimento 5 Stelle Locale e abbiamo portato avanti questa campagna di sensibilizzazione sulla problematica dovuta al SILA2. Praticamente noi siamo in contatto con la nostra amministrazione affinché prenda in considerazione questo tipo di problema che attanaglia il nostro territorio. Diciamo che la nostra amministrazione si dice a parole sensibile al problema dei rifiuti e diciamo che per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata ha anche una buona percentuale, questo bisogna riconoscerlo. Il problema è che poi queste buone intenzioni, queste buone pratiche, vanno a scontrarsi con le politiche legate proprio all'incenerimento, che praticamente una di queste problematiche, di queste politiche che vengono portate avanti da A2A e quindi sostenute dall'amministrazione locale, riguardano in particolar modo il teleriscaldamento che viene propagandato come la soluzione di tutti i problemi ed è un po' anacronistica questa cosa qui, cioè nel senso che se da un lato promuoviamo una raccolta differenziata spinta, quindi una diminuzione e auspichiamo a sua volta un futuro spegnimento dell'impianto, non possiamo avvalorare invece una tecnica che è destinata a perdurare nel tempo e che è comunque legata all'incenerimento dei rifiuti e quindi a tutte le attività del SIL, e questo insomma noi ci stiamo battendo per mettere in evidenza questa contraddizione che è abbastanza evidente. Sì, la gestione dei rifiuti mediali di incenerimento è il passato, questo impianto ormai ha 20 anni circa, è il passato, anni in cui magari la percentuale di differenziata era anche molto più bassa di adesso, quindi noi quello che chiediamo è certo lo spegnimento dall'oggi a domani perché è un sistema che è stato creato e quindi ci troveremo immersi nella spazzatura anche nei rifiuti urbani, però quello che vogliamo è un piano decennale, ventennale, di spegnimento graduale di questi impianti a favore di un'economia circolare basata sul riuso e riciclo di rifiuti urbani. Chiaro, per concludere quello che dice Davide è giusto, cioè nel senso che se tu mi dici che comunque sei favorevole allo spegnimento dell'impianto, devi mettere in atto politiche che vadano in quella direzione, non puoi continuare su politiche che invece alimentano queste pratiche. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao a presto. Ciao.